Angela Merkel è giunta ad Atene. L'aereo del cancelliere tedesco è atterrato all'aeroporto internazionale Lefterios Venizelos della capitale greca. Ad attendere al primo ministro ellenico Antoni Samaras è un impenetrabile cordone di polizia. Il cancelliere sarà ricevuto anche dal capo di Stato Karolos Papulia. Sono in agenda per Angela Merkel insieme al premier greco incontri con delegazioni di imprenditori tedeschi e greci.